La Italia d'Italia è in prima linea anche a livello europeo per difendere le imprese agricole e agroalimentali italiane da un approccio troppo ideologico da parte della Commissione Europea. Non ci può essere sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica delle nostre imprese e senza difesa della tipicità e della qualità. NutriScore, Carni Rosse, Etichettatura, su questi e altri temi faremo sentire la nostra voce al fianco delle eccellenze del nostro Made in Italy.